Ben tornati con le notizie di Antena Sud, allerta massima a Barletta dopo l'accoltellamento avvenuto la scorsa notte nel centro della città. All'esterno di un bar, un giovane di 24 anni è stato accoltellato a morte in seguito a un litigio, si presume. Controlli straordinari sono stati disposti nelle aree della Movida a Barletta. Si è riunito oggi in via urgente il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocato dal prefetto Maurizio Valiante con i vertici provinciali delle Forze dell'Ordine e della Polizia Locale. Il centro storico della città sarà pattugliato già a partire da questa sera da nuclei interforze, reparti speciali e cani antidroga. In prima linea ci sarà la Polizia Locale che garantirà il presidio fisso fra il castello, la cattedrale e la zona dei Bassioni. Sono inoltre state previste misure straordinarie contro la cosiddetta Malamovida, come spiega la prefettura in una nota, e saranno predisposte dall'amministrazione comunale queste attività di controllo sulle attività di vendita di alcolici e anche sulla diffusione della musica. Per il prefetto Valiante si è trattato di un episodio gravissimo che richiede un potenziamento delle forze in campo per contrastare questo fenomeno. D'altro canto però si richiede anche la collaborazione dei cittadini, soprattutto anche a partire da coloro che possono avere elementi utili da portare all'attenzione degli inquirenti per identificare i colpevoli del gesto omicida della scorsa notte. Nel servizio che segue ricostruiamo la vicenda. Sentite. Una tragedia che scuote il centro storico di Barletta, protagonisti di ragazzi che frequentano la vita notturna della città. Un 24enne è stato accoltellato nei pressi di Piazza Duomo ed è morto nelle ore successive all'ospedale di Miccoli. Inutile la corsa presso un mosocomio cittadino dove l'equip medica del reparto di rianimazioni ha riscontrato una profonda ferita all'addome causata da un'arma da taglio. Il decesso è avvenuto alle prime luci dell'alba nonostante i soccorsi prestati alla vittima. Già partite le indagini da parte della compagnia dei carabinieri di Barletta coadiuvati dal nucleo investigativo del comando provinciale. Al vaglio le immagini di video sorveglianza nelle zone nevralgiche del centro storico. Più uomini e mezzi da schierare ma anche più denunce da parte della popolazione anche Corato riflette sulla sicurezza dopo la sparatoria degli scorsi giorni. Abbiamo raccolto ai nostri microfoni l'appello del primo cittadino. La volontà di agire d'intesa con le forze dell'ordine, fornire il supporto dell'amministrazione a rappresentare al meglio le problematiche della città ma anche la richiesta di più uomini e mezzi a fare da presidio. Corato riflette sulla sicurezza dopo i fatti di inizio settimana è l'aguato a colpi d'arma da fuoco che ha portato al ferimento di un 27enne a due passi da uno dei luoghi simbolo della Movida. Nei giorni scorsi il comitato di pubblica sicurezza a Bari, a Palazzo del Governo, è l'appello del primo cittadino ai nostri microfoni. Se noi volessimo basarci sul numero di denunce che provengono per esempio da una città sappiamo benissimo che queste sono pochissime. Perché si denuncia poco? Perché si denuncia poco. Io ho invitato i miei concittadini, i miei concittadini soprattutto quegli esercenti commerciali o quelle imprese che dovessero subire pressioni, ricatti, estorsioni a denunciare. Questo non avviene. c'è timore, c'è paura. Perché? Anche c'è una percezione diffusa di insicurezza, ci si sente soli molto spesso. Non è vero fino in fondo ma c'è una parte di verità in questo. Due persone sono state arrestate, circa mezzo chilo di droga fra Mariana e Ascis è stata sequestrata da agenti del commissariato di polizia a Barletta. In manette sono finiti un 38enne e un 20enne accusati di detenzione ai fini di spaccio, di sostanza stupefacente e resistenza. È accaduto ieri sera in zona Sette Fratti dove la polizia era intervenuta in seguito ad alcune segnalazioni. Sul posto gli agenti hanno trovato il 38enne con precedenti penali per spaccio. L'uomo ha cercato di eludere i controlli ma poi gli agenti lo hanno scoperto e durante la perquisizione anche effettuata nell'abitazione dell'uomo sono state rinvenute altre 59 dosi di marijuana e altro materiale utile al confezionamento dello stupefacente. Andiamo avanti, ci spostiamo a Foggia dove è stata chiesta l'incandidabilità per l'ex sindaco Nandella e nove ex consiglieri comunali. Tutti sarebbero responsabili dello scioglimento per infiltrazioni mafiose. Dopo lo scioglimento per mafia del comune di Foggia arriva anche la tegola dell'incandidabilità. Il ministero dell'interno ha infatti chiesto la dichiarazione di incandidabilità per l'ex sindaco di Foggia Franco Landella e per altri nove consiglieri comunali tra cui l'ex presidente del consiglio Leonardo Iaccarino. Tutti secondo la richiesta avanzata dal Biminale sarebbero responsabili dello scioglimento per infiltrazioni criminali del consiglio comunale avvenuto lo scorso agosto e che ha portato al commissariamento dell'amministrazione della città. Oltre all'ex sindaco e all'ex presidente del consiglio nella lista figurano gli ex consiglieri Antonio Capotosto, Consalvo Di Pasqua, Dario Iacovangelo, Liliana Iadarola, Erminia Roberto, Bruno Longo, Pasquale Rignanese e Lucio Ventura. Tutti citati nella relazione di scioglimento per mafia del comune ed alcuni arrestati nell'ambito dell'inchiesta sulle presunte mazzette a Palazzo di città. Inchiesta ancora in corso e che vede coinvolti l'ex primo cittadino Franco Landella e il grande accusatore Leonardo Iaccarino, sottoposto ad interrogatorio con la formula dell'incidente probatorio. Se l'incandidabilità venisse confermata fino al terzo grado di giudizio, gli ex amministratori non potranno dunque partecipare alla successiva tornata elettorale. L'udienza davanti al Tribunale di Foggia è stata fissata per il prossimo 14 dicembre. E' il barese Domenico De Santis il candidato unico alla segreteria metropolitana del Partito Democratico. Niente avversari interni, conferenza stampa nella sede regionale di Via Redavid a Bari per segnare l'agenda del mandato. Il centro-sinistra barese riorganizza le file. Domenico De Santis è il candidato unico alla segreteria del PD della provincia di Bari. Nella sede della federazione provinciale del Partito Democratico in Via Redavid si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della candidatura. Presenti alcuni consiglieri regionali e parlamentari del PD sono stati affrontati i temi politici di stretta attualità, alla luce dei quali lo stesso De Santis ha illustrato il documento politico che fa parte del suo programma. L'idea nostra è quella di rilanciare tutti i circoli, ma soprattutto di ricostruire la coalizione del centro-sinistra attraverso una convenzione. Chiederemo al Movimento 5 Stelle e alle liste civiche del centro-sinistra di unirsi attorno a un tavolo politico per costruire la convenzione della terra di Bari per provare ad essere uniti in tutte le elezioni comunali che ci saranno il prossimo anno e negli anni successivi. In più proveremo a costruire un partito che si radica nei luoghi del lavoro e quindi istituiremo dei circoli tematici nelle fabbriche, nelle aziende, nelle università, perché la nostra idea è quella di provare a rilanciare l'azione del Partito Democratico in maniera sinergica in tutto il territorio con un sistema di relazione, di costruzione del consenso in tutti i luoghi in cui ci sono i lavoratori, ci sono i cittadini. Perché la nostra idea è quella di provare a continuare a far vivere la stagione della primavera pugliese dove sono protagonisti Michele Emiliano e Antonio De Caro. C'era anche l'onorevole Ubaldo Pagano, l'ultimo a gestire la segreteria provinciale di Bari del Partito Democratico. È un passaggio di testimone senza rottamare nessuno, ma un passaggio di testimone di qualità, di una persona che conosce bene la struttura del Partito Democratico, fa parte della generazione democratica e soprattutto ha dimostrato anche di avere un consenso personale nelle ultime elezioni regionali. Sono i giorni delle proteste, non si arresta il malcontento del movimento No Pass, un corteo ha sfilato a Foggia, 300 manifestanti organizzata questa manifestazione dal Comitato 15 ottobre chiedono libertà e diritto al lavoro. Siamo qui per la libertà, per la nostra libertà, per i nostri diritti. Siamo consapevoli del fatto che stiamo vivendo in un periodo storico non facile e che chi sta amministrando a nostro detto in maniera illegittima e sbagliata non sta amministrando bene. Capiamo anche che ci sono delle difficoltà oggettive, però riteniamo che uno strumento chiamato Green Pass per il che noi oggi stiamo protestando non sia uno strumento medico, ma un mero strumento politico e economico. No Green Pass! No Green Pass! No Green Pass! Al grido di No Green Pass rivolgiamo le nostre libertà a Foggia, 300 manifestanti hanno sfilato nelle scorse ore contro l'obbligo della certificazione verde Covid-19. Il corteo, organizzato dal Comitato provinciale 15 ottobre, nato a Trieste in occasione della protesta dei portuali, è partito da piazza Cavour e si è diretto verso piazza Cesare Battisti, monitorato da forze dell'ordine e polizia locale ed ha manifestato contro le attuali restrizioni e ritenute discriminatorie nei confronti dei lavoratori. Lei per esempio è a favore della vaccinazione? Noi non siamo contro il vaccino, io sono un free vax, ritengo che ognuno nella propria libertà, qualsiasi cosa ritenga più giusto per la propria salute, debba farlo e debba percorrere quell'obiettivo, una, due, tre, cinque, dieci dosi non è importante. Come possono avere un costo i vaccini? Va tutelato il Parlamento, lo Stato per antonomasia dovrebbe difendere sempre quelli che sono i più deboli, a oggi a detta loro i numeri minoritari siamo noi, i più deboli siamo noi, quindi andiamo difesi, andiamo tutelati e andiamo magari accompagnati in un percorso diverso rispetto a quello che hanno fatto gli altri. Ad animare la politica e anche le piazze lo stop al DDL ZAN, oggi in diverse città d'Italia la protesta che ha coagulato l'attenzione di tanti manifestanti, avete fermato la legge non fermerete la lotta, vergogna, questa è la scritta riportata sullo strescione che ha aperto la manifestazione organizzata oggi a Bari in contemporanea con altre 43 piazze in tutta Italia. Ma l'iniziativa in Puglia è partita proprio da Barletta, noi l'abbiamo seguita, oltre l'organizzazione della manifestazione nella piazza si è organizzata anche tutta una macchina attraverso i social per pianificare i flash mob che si svolgeranno negli altri capoluoghi pugliesi. Noi siamo più nascosti nei locali Ombra, noi siamo più nascosti. Basta, 2021 non è più accettabile, ammissibile che l'Italia non sia considerata un paese civile. Un flash mob organizzato sui social con Barletta che ha risposto presente come unica città della BAT. Un sit-in in piazza Pescheria ha mantenuto viva l'attenzione sul DDL ZAN nonostante il voto contrario al Senato che ha bloccato il disegno di legge. Affluenza crescente dei cittadini durante l'iniziativa nel centro storico cittadino con il sostegno del circolo Arci Callocafiero, dell'Ampi e dell'Arci Gay. Un cerchio simbolico a rappresentare l'inclusione che avrebbe garantito il DDL ZAN, un evento che in Puglia si ripeterà a Taranto, Bari e Foggia. E' in fase di sperimentazione un progetto che potrebbe risolvere il problema della xylella fastidiosa. Si chiama Biovexo e partendo dalla Puglia coinvolge l'intera Unione Europea. Una sperimentazione parallela tra Puglia e Spagna per testare una possibile soluzione per il controllo del batterio xylella fastidiosa che continua a danneggiare gli olivi pugliesi con un impatto sulla produzione di olive tra il 65 e l'80%. Di qui nasce Biovexo, il progetto che è stato lanciato nel 2020 finalizzato alla verifica in campo dell'efficacia di 6 bioformulati a basso impatto ambientale per il controllo del batterio. L'attività vede un partner areato internazionale che coinvolge accademie e imprese da Austria, Belgio, Spagna e Italia che è rappresentata dalla sede di Bari dell'Istituto per la protezione sostenibile delle piante del CNR e dal centro di ricerca e sperimentazione e formazione in agricoltura Caramia di Locorotondo. In Puglia la sperimentazione è partita il primo maggio del 2020 nell'area del Salento. Le prove curative sono in corso su piante infette da xylella nelle campagne di Brindisi e Latiano, mentre le prove preventive sono state allestite in campi sperimentali localizzati ad Avetrana e Brindisi. In totale sono circa 200 le piante interessate per ogni campo e per le prove preventive sono state piantate tra marzo e aprile 2020. Il progetto è quinquennale, è partito nel maggio del 2020 e quindi siamo appena al primo anno di progetto non abbiamo ancora raccolto sufficienti dati per esprimere una valutazione dei risultati. La particolarità è anche quella di studiare sia direttamente in campo con degli appezzamenti e delle prove di 200 piante circa per campo situati in quattro diversi campi nel Salento e quindi con differenti condizioni climatiche proprio per testare al meglio i bioformulati che sono sei, si tratta di batteri o di funghi oppure di estratti vegetali. Tra gli altri possibili utilizzi che il progetto Biovexo ha, a parte il suo utilizzo in agricoltura biologica, c'è una possibilità di utilizzare alcuni dei bioformulati in ambito urbano. L'attenzione sul problema della xylella è alta, assicura l'assessore all'agricoltura della Regione Puglia Donato Pentassuglia che annuncia anche il via libera ai provvedimenti di abbattimento di altre mille piante malate. L'attenzione sulla xylella è alta e l'azione di controllo e contenimento in Puglia è costante e capillare. L'assessore regionale all'agricoltura Donato Pentassuglia esamina la situazione illustrata dalle recenti pubblicazioni relative ai dati della diffusione del batterio, in particolare nella Piana degli Olivi Secolari, dove la strategia regionale assicura prevede un'ulteriore azione di sorveglianza che consentirebbe di rafforzare efficacemente le attività di tutela e salvaguardia. Secondo l'assessore, la mappa del territorio della zona infetta dimostra che la strategia di contenimento dal 2020 ad oggi sta raccogliendo i suoi frutti. Si registra una diffusione della malattia nei focolai già rinvenuti nel 2020, un dato che induce a mantenere alta l'attenzione, ma che ci dà ragione sulla strategia messa in campo, sottolinea, ovvero individuare le piante infette, abbatterle e delimitare l'area. Pentassuglia annuncia inoltre a livea libera i provvedimenti di abbattimenti di altre mille piante, che giungerà a breve dal dirigente dell'osservatorio fitosanitario regionale. La medesima attività proseguirà nel prossimo anno e anche grazie a questo grande sacrificio, dice Pentassuglia, che possiamo sperare di salvare i 6 milioni di olivi presenti nella piana. Una piaga che sta cambiando la nostra agricoltura e il nostro paesaggio. Serve tuttavia uno sforzo comune tra imprenditori, sindaci, associazioni e regione. Abbiamo tutti il dovere di sostenere, anche con corpose iniezioni di liquidità, conclude il sacrificio che chiediamo al mondo agricolo. Andiamo a Bari per la stagione 2022 del Teatro Petruzzelli. Più spettacoli e nuove proposte per il Teatro Petruzzelli di Bari. Otto titoli d'opera, 27 concerti e la novità con le lezioni di musica. La stagione 2022 della Fondazione, dopo le fasi più critiche della pandemia, celebra la grande ripartenza del capitolo cultura in Italia attraverso la qualità dell'offerta musicale e l'incremento degli spettacoli proposti. Tra gli otto titoli d'opera ci sono tre nuove grandi produzioni, due balletti di caratura internazionale e 27 concerti con top star di fama mondiale. L'apertura nel mese di gennaio sarà dedicata a Tristano Isotta di Richard Wagner, nuova produzione e nuovo allestimento della Fondazione. Altre nuove produzioni saranno Aida e Romeo e Giulietta di Charles Gounod. Per la danza il cartellone propone i balletti di Monte Carlo e il balletto Fuego, soltanto a citarne alcuni. Nella stagione concertistica spiccano stelle di grande prestigio, tra cui Riccardo Muti con l'orchestra Cherubini, la pianista Beatrice Rana, i grandi sinfonici condotti dal direttore stabile dell'orchestra del teatro Giampaolo Bisanti e altri. Al Petruzzelli ci sarà il meglio del grande concertismo mondiale, ha detto il sovrintendente del teatro Massimo Biscardi, con grandissimi solisti e molte orchestre ospiti. Mentre i mesi di novembre e dicembre saranno il tempo della ripartenza programmata, appuntamento con soli due concerti. Voglio che il pubblico abbia il tempo di ponderare le proprie scelte sino a gennaio, ha aggiunto Biscardi, consapevole che con la pandemia qualcosa è cambiato e per riprendere il rapporto con i fruitori occorre anche tanta pazienza. Andiamo a Putignano per racconti di carta. La mostra Cielo aperto per ammirare le sculture interattive ispirate alla Divina Commedia chiude il 31 ottobre. Abbiamo fatto un bilancio con la sindaca Luciana Laera. Racconti di carta, la mostra all'aperto nel centro storico di Putignano sarà accessibile per tutto il mese di ottobre. Il termine dell'esposizione era fissato per la fine di settembre ma ha subito uno slittamento per andare incontro alle richieste giunte dagli operatori turistici. Una decisione maturata dal Comune di Putignano e dalla Fondazione Carnevale, promotori dell'iniziativa culturale visto il grande successo ottenuto nei mesi estivi. La mostra Racconti di carta in cammino con Dante è stata visitata già da oltre 12.000 ospiti interattivi. Il rilevamento è stato possibile grazie agli accessi online eseguiti alla piattaforma digitale che consente ai visitatori dell'esposizione di ascoltare le terzine dantesche riferite ad ogni opera scultoria, versi in italiano, inglese e persino nel dialetto locale. Interpretazioni attoriali di grande spessore con interpreti di pregio. L'apertura nel mese di ottobre permetterà di ospitare le scolaresche e i gruppi organizzati interessati a visitare Putignano e approfondire la sua arte. L'itinerario di scoperte e approfondimento ha visto protagonisti anche 20 giovanissimi studenti dell'Istituto di Scuola Secondaria Tauro di Castellana Grotte. Infine cresce l'attesa per l'organizzazione della prossima edizione del Carnevale di Putignano dopo lo stop forzato causato dal Covid dello scorso anno. È stata una scelta saggia e coraggiosa e molto dolorosa quella del 2021, ha ricordato Maurizio Verdolino, presidente della Fondazione Carnevale di Putignano, ma ora si guarda al futuro. Il giornalista Andrea Iacomini racconta le difficoltà dei bambini di Siria e Afghanistan nell'incontro alle vecchie segherie Mastro Totaro di Bisceglie. L'iniziativa ha lo scopo di sensibilizzare il territorio su un argomento di stretta attualità pur essendo lontano dalla realtà pugliese. Sensibilizzare il territorio per essere solidali con Siria e Afghanistan è questo l'obiettivo di Andrea Iacomini, editorialista di Politica Estera e portavoce di Unicef Italia. La commissione pari opportunità del comune di Bisceglie ha ospitato l'autore alle vecchie segherie Mastro Totaro dove si è discusso della condizione precaria in cui stanno crescendo i bambini di due stati in grave difficoltà. Sono delle emergenze planetarie di cui dobbiamo occuparci. Questa sera abbiamo fatto il punto sulla condizione dei bambini e delle bambine in questi paesi e in particolar modo abbiamo colto l'occasione per raccontare come in Afghanistan oggi accanto a una situazione politica complessa esista una grave emergenza umanitaria. Ci sono 20 milioni di bambini e bambini, genitori, famiglie che hanno bisogno urgente di assistenza umanitaria. Cronache di indignazioni annunciate e il titolo dell'incontro che ha visto protagonista Iacomini che ha avvicinato il pubblico all'Afghanistan e alla Siria attraverso le sue esperienze un modo per prendere coscienza di ciò che accade ai meno fortunati. Corre, e lo abbiamo fatto questa sera discutendo anche con Giuliano Foschini dell'importanza di non spegnere la luce, di continuare a tenere alta l'attenzione su un dramma umanitario che rischia veramente di avere degli effetti impressionanti. Sottoscritto è un accordo proprio tra il comune di Bisceglie e il portale Puglia Autentica per la promozione del territorio, un'operazione di marketing che vedrà la città insieme ad altri 12 comuni della regione al centro di un progetto culturale con iniziative online e nei luoghi più caratteristici del centro storico. Bisceglie è turistica 365 giorni all'anno grazie al progetto congiunto con Puglia Autentica, una rete di promozione sociale entra di diritto nelle priorità dell'amministrazione comunale che col marchio regionale di commercializzazione del territorio punta ad ampliare il suo ventaglio di offerte. Iniziative culturali, enogastronomiche, balneari e di spettacolo faranno parte del nuovo legame tra Bisceglie e Puglia Autentica con una guida pocket che includerà tutto ciò che la città potrà offrire nel corso dei prossimi mesi. L'adesione al progetto di Gaetano Armenio e quindi di Puglia Autentica sta consentendo alla città di Bisceglie di completare quella strategia sul marketing territoriale che abbiamo messo in campo in questi anni per poter appunto far conoscere meglio la nostra bellissima città. Abbiamo un centro storico e delle tradizioni che tutti ci invidiano. Siamo anche per raccontare e per creare e rafforzare questa rete in previsione del lavoro di promozione che sarà svolta nei prossimi mesi e nei prossimi anni per raccontare al mondo il nostro essere pugliesi, per raccontare al mondo le nostre eccellenze enogastronomiche e per un turismo di tipo culturale. Bisceglie è il tredicesimo comune che entra a far parte di Puglia Autentica, non solo la promozione turistica sul posto, attraverso il portale online la città potrà permettere anche l'acquisto a distanza a tutti i turisti. E adesso le notizie flash di Cronaca. Si raccomanda di non organizzare alcun tipo di manifestazione legata ad Halloween. La maggior parte dell'attuale popolazione colpita dal virus è costituita da minorenni e c'è un'alta probabilità di un incremento della diffusione anche visto il fatto che spesso i protagonisti di tali festeggiamenti sono bambini di età inferiori ai 12 anni, esclusi al momento dalla campagna vaccinale contro il Covid. Così l'appello del sindaco Davide Carlucci di Acquaviva delle Fonti nel Barese. In quel centro si registra attualmente un tasso di 118 nuovi casi alla settimana ogni 100.000 abitanti. Si tratta del dato più alto della città metropolitana. Lavoro, una società svedese impegnata nella costruzione di pannelli solari innovativi, ha deciso di investire in Puglia. ha previsto un investimento di 60 milioni di euro e l'assunzione di 200 persone tra impiegati, tecnici e operai. L'area sarà quella della zona industriale di Modugno. Verranno prodotti moduli fotovoltaici flessibili. La ricerca è stata affidata da Invitalia a Puglia Sviluppo. Una mozione per chiedere la compartecipazione dello Stato alle spese per i minori in comunità, presentare al gruppo della Lega in consiglio regionale. La mozione impegna la giunta di Via Gentile e la massima assemblea a sostenere in tutte le sedi il progetto di legge. I minorenni accolti nelle comunità sono aumentati, passando da 29.692 del 2016 alle 32.185 unità del 2017, il 61% degli ospiti delle comunità presenti nel territorio italiano e di origine straniera. Tra gli stranieri la maggior parte, circa 3 su 4, fanno sapere dalla Lega, è costituita da minori stranieri non accompagnati. Si avvicinano i festeggiamenti per Halloween e si raccomanda massima attenzione agli accessori che potrebbero essere contraffatti. Infatti i carabinieri del Nasti Bari, nell'ambito di controlli mirati proprio contro la contraffazione e il commercio illecito di giocattoli, articoli da regalo, hanno ispezionato un esercizio gestito da una donna di nazionalità cinese nel centro della città, sequestrando quasi 300 di questi accessori per il travestimento per la festività di Halloween, posti in vendita privi dell'indicazione in lingua italiana nell'etichetta della composizione dell'oggetto e delle sostanze utilizzate per la produzione, quindi potenzialmente pericolosi per la salute dei bambini e dei consumatori in genere. La merce rinvenuta dai carabinieri è stata posta sotto sequestro per la successiva confisca disposta dalla competente autorità amministrativa, mentre la titolare del negozio è stata combinata una sanzione di oltre 1000 euro. Con questa notizia chiudiamo il nostro TG, vi ricordo che trovate notizie e aggiornamenti sul nostro canale YouTube, la nostra pagina Facebook e il nostro sito www.antennasud.com. Grazie come sempre per l'attenzione, a voi tutti un buon proseguimento con i nostri programmi.